signore e signori bene ritornati su fallout siamo in quella famosissima cittadina del cat oh abbiamo un ricercato di livello 50 puttana devo trovare il diario a satton noi siamo esattamente a satton sicuramente oltre al ricercato di livello 50 che speriamo non venga romperci il culo come si suol dire sicuramente avremo ospiti qui in giro e il mio problema è che ho questa simpatica armatura che ho scoperto ma sicuramente ce l'avrà già anche il tizio che questa amichevole armatura ha un aveva cioè prima che la smontassi la bellezza di il braccio destro la gamba sinistra e il torso di livello 40 abbiamo beccato dei pezzi di armatura praticamente che sono di quasi non dico fine gioco però quasi cioè nel senso quasi insomma quasi adesso dovrebbe darmi eccolo qui scoperto satton il mio problema salve adesso ne attirerò 50 di si stronzi ma pazienza dove sei morto e te dove lo senti fuori e ormai che era un cucciolo questo è rognoso e simpatico il mio problema adesso è questo prima tutto per vedere dove cazzo è ricercato vabbè fermo lì dell'accampamento quindi me ne batto ampiamente le palle e il problema adesso è come cazzo faccio a salvare la mia armatura perché non ne ho raggiunto la pallida idea cioè o esco dall'armatura con cioè o esco dal gioco poi con l'armatura addosso o non ne ho la più pallida idea poi noi per puro culo abbiamo trovato diario del sovrintendente ok abbiamo creato un checkpoint va bene stimpatico ho ballito ok allora dunque adesso quindi dobbiamo ascolto il diario del sovrintendente va bene allora dunque varie no dov'è o lonastri diario del sovrintendente annotazione 2 ok completo ascoltare del sovrintendente trovo il prossimo diario alla scuola superiore di morgantown ok fermati intanto non è che mi tocchi più di tanto la pavita personale e morgantown dove cazzo è ottieni carico di scorte dove è l'altra città uuuuh signor fin la e vabbè niente questa qui diventerà una missione secondaria a me devo anche andare a morgantown il problema è che l'unica cosa che mi viene in mente da fare è uscire da questa città e in un punto non ben definito della mappa andare come si dice aspettate un attimo stavo pensando esco dalla città mi sposto in mezzo alla campagna e mi metto giù l'accampamento il camp con esaminato teoricamente la roba che è nel camp non dovrebbero rompermi coglioni però questa missione qua che cazzo era allora ottieni carico di scorte che non è una missione ottieni carico di scorte vabbè ce ne sono due o tre dunque stava pensiamo un attimo no non riesco a non mi viene in mente come come fare il coso non c'è non ce l'esco mi viene in mente l'unica mi viene in mente di andare via e l'unica è quella secondo me l'unica adesso vabbè la città la giro poi un'altra volta esco dalla città mi lancio in aperta campagna e pianto giù il camp e buonanotte non mi vengono in mente altre soluzioni per per risolvere questo problema qua del che è? oh scusi il camp dove cazzo? guardiamo un attimo prima la mappa dunque qui devo andare tendenzialmente verso destro perchè devo fare le scorte saltarmi la cosa della... della... eh ma qui è tutta montagna ah ci ho sete va bene dunque oggetti provviste qui c'è caduta una bomba chi cazzo è? ma va a far pure piastere di identificazione non penso che mi servono qua c'è anche tanta gente calve ma... ma... ma cazzo è fatto? è che mi scrivi? uh forchetta d'oro la prendo eh... mappa un attimo proviamo ad andare di qua descriviamo la... la farm lì la cosa perchè... non ne ho la più pallida idea se riesco a... se riesco a fare... qualcosa di decente questo qui sarebbe anche in piano sto pezzo qua per buttarci il... il camp però è anche vicino a quello a fare la oddio potrei tornarci dentro e adesso ho dimenticato qualcosa anche oppure mi piazzo vicino al ruscello così c'ho anche l'acqua potrebbe essere carino ecco... proviamo ad andare vicino al ruscello ma cos'è un'altra città questa? c'è un'altra città qua? mi sfuggiva non c'è sulla mappa potrei mettere anche qua il campo volendo sono in piano effettivamente sono abbastanza in piano hai scoperto Helvetia? che cazzo è Helvetia? una cittadina? ah si è sta cittadina qua però non... non ho niente da fare quindi andiamo a sinistra volevo buttarmi fuori da una città per non avere gente attorno adesso non so ancora di preciso adesso se le nano tute qui minchiate varie te le possono fregare o meno quindi... allora il ruscelletto dovrebbe essere quello? no quella è una strada scherzavo il ruscelletto è dopo anche qua sono in piano però ah il ruscelletto è direttamente un canyon praticamente ok interessante ok facciamo una roba allora visto che non mi fido più di tanto dunque noi siamo qui la più avanti c'è il il carico di scorte così quasi mi piazzo qua e buonanotte dai allora vediamo un po' come funziona la questione dunque varie forcine minera provviste dati no? ehm radio no me frega niente statistica che cazzo è? oggetti armi non ce l'ho qua vestiario non penso proprio provviste tanti di quella merda qua dentro zuppa di piro mi c'è interessante zuppa di gratu e anche per i fagioli di asali ok poi varie oronastri note materiali che cazzo è? che cazzo è? attiva il tuo nuovo camp attiva il tuo nuovo camp o tieni pronto qui per iniziare a costruire allora dunque r costruisci o trasferisci che cazzo guardi? ah no ok qua posso trasferire gli oggetti eccolo facciamo una roba visto che il camp non mi sembra sia fattibile ehm farlo trasferiamo questo 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 poi facciamo eh esco dalla danotuta allora premi t per raccogliere l'inventario perfetto ah l'armatura atomica avrei chiamata dentro ok perfetto e quindi trasferisci r ah no ah no trasferisci dentro l'armatura atomica no ferma ehm quindi devo togliere il nucleo di fusione ok ok l'armatura atomica adesso faccio trasferisci di qua ehm dov'è? un vestiario e dove cazzo è? che non la vedo telaio armatura atomica ok perfetto ok l'abbiamo buttato dentro al camp e devo buttare anche dentro però la cella di fusione dove cazzo è? ok nei materiali no nelle munizioni no ah il nucleo di fusione ok nucleo di fusione che lo devo buttare dentro al coso dovremmo essere a posto no? no nucleo di fusione braccio destro braccio sinistro torso e telaio armatura atomica perfetto ok teoricamente qui nel dentro al coso non dentro al camp non ci vengono a rompere le palle qui qui c'è una discesa alla skyrim ma va bene lo stesso secondo me questo posto qua è abitato poi non so devo darmi una messa a punto a sta cazzo di... oh oh merda te il tuo furgone il tuo furgone il tuo furgone il tuo forcone ok 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 perfetto un combattimento abbastanza abbiamo preso un po' di danni però ma che cazzo è? ah moltexion originale interessante ok ok ovviamente vi ho già asfaltato va bene così mettiamo un po' qua nel cosa di rifornimenti ma eh ho scritto qua dove cazzo sei? ah salve salve come sta? la vedo la vedo un po' tagliuzzata c'è ancora uno lo sento ma non lo vedo lo vedo ma non lo sento no lo ho sentito e basta progetto imponente la mano buffa ma c'è tenerebbe bella che cazzo è? sento l'arrivare da qua ma non capisco ho trovato un segno di emergenza superi tori what? qua non c'è nessuno perfetto ciò trova per cani non ho il cane qua non mi serve niente qua no amido vegetale e un informo militare giusto per fare acqua purificata grazie e qui non mi sembra ci sia altro prenderci anche la birra giusto per e dunque noi qua probabilmente abbiamo si dovevamo esplorare un attimo sta cittadina ma vediamo poi cosa offre la ditta no questa qui è chiusa questa casa quella è barricata l'unica casa aperta era questa dove c'è un mucchio di carne ehm old possum va bene lo stesso c'è un sotterraneo uh sale attenzione potremmo andare a scorrere questo coso qua veniamo per bellico ah me l'ha fatta aprire così a gratis scatola di forcine scatola di forcine che servono sempre ehm qui c'è qualcosa no un pennello no grazie qui cosa c'è c'è un coso destra niente uuu dove sei? c'è un tizio che urla c'è un è un coso quello insomma un goal lì un che cazzo sono sti quattro livelli che cazzo sono che fare accendaino steartboy non so cosa sia ma viene lo stesso qua di utile niente ah banco di lavoro per armatura interessante vediamo un po' se abbiamo delle modifiche da rifare se deve dare fare delle modifiche da fare allora dunque braccio destro in cuoio allora questo qui lo posso anche buttare standard standard oh standard abbiamo il cuoio bollito attenzione buono molto buono va benissimo poi tab indietro ok ok perché non me la ah no me l'ha spostato sotto non capivo braccio sinistro questo qui standard cuoio bollito va bene ok poi gamba destra ok possiamo fare cuoio bollito perfetto anche te va bene anche te va bene così che mi potenzi un po' ehm se devo distruggere se non mi confondo poi poi gamba sinistra va bene standard cuoio bollito va bene e vediamo se per sbattare il pit boy abbiamo delle modifiche da mettere non penso eh qui devo fare il traccio in cuoio ah il traccio in cuoio non posso farlo in cuoio bollito perché? perché vuole cuoio uno di tre ah tre di uno ok ne ho uno ne ho tre quindi devo fare eh passa crea no io devo fare passa smantella eh quindi devo fare recicla oggetti vestiario questo qua ok cappella da feste facciamo un attimo che toglieci tutto allora accendino va bene accendino va bene amido vegetale no eh questa qui è la pistola del cazzo la buttiamo via poi canna lunga stabilizzata attenzione eh pistola artigianale va bene mirino corto ascia multifunzione danni 37 cosa faccio con il macete scusate con il macete segretato 22 quindi mi sa che il macete ci abbandonerà teniamo questa bolt action artigianale pistola un 45 ma la smantelliamo abbiamo ottenuto il compensatore perfetto in oro prebellico lo togliamo tutto forbici fuori e coglioni forchetta d'oro mettiamoci l'oro grezzo il macete lo calpiamo via la tela a punta tonda lo calpiamo via il nostro americano ci serve o no non mi viene in mente l'utilizzo però lo tengo un attimo spilla stella rossa e oro la cosa facciamo tirapugne bassino lo eh disgreghiamo tubo di piombo non ce ne può fregare meno tutta la paramedica o no linfone pompiere linfone militare questi quali teniamo potrebbero esserci utili fucile a pompa fucile da caccia è un 45 però poi posso crearmelo ok perfetto fucile a pompa lo teniamo bolt action artigianale l'unica cosa questa qui pensiamo dopo ok perfetto eh quindi adesso dobbiamo fare eh di nuovo eh modifica barra ripara e andiamo a prenderci il torace in cuoio con standard e cuoio bollito perfetto reciclando quello vecchio siamo riusciti a ottenere quello nuovo ottimo ottimo e ottimo eh posso modificare un informe militare? eh wow non lo sapevo eh per il resto non c'è un cazzo da fare però è ottimo ok di qua invece usciamo dove? usciamo dove c'è un salve eh ah era pure una donna ma chi se lo impura? oh salve è suo marito lei ma che peccato ardente 1 e ardente 2 non hanno un cazzo perfetto quindi vediamo se qui c'è qualcuno di carne non c'è niente qui c'è un cacciavite e non so che altro questo che cazzo è? è un'officina? uh carino sarà più un banco di peni però perchè sarà più un banco di peni perchè c'è la griglia ah ci sarà del denaro prebelli quelli della cosa e infatti eh no se mi ranno ce ne frega niente carrellina di qui carrellina di là ci c'è chi? e ci c'è la ok perfetto ci siamo fatti il giro di tutto di tutte le cose più o meno un giro un po' oh salve errante e ardente con la stellina sopra carina ma è morto comunque guarda quanta roba vera abbiamo fatto man bassa proprio c'è qualcun altro c'è qualcun altro già che siamo qua? no? eh cos'è? seghetto no? tanti di benzina no? non mi sembra ci sia nient'altro di utile qua non possiamo salire ottimo e quindi ok abbiamo perso altri 25 minuti a fare tutte le nostre simpatiche qua ci sarà qualcosa qua dentro eccolo l'ho visto? l'ho visto? l'ho visto? l'ho visto? era qua? era questo? era qui? era qui? era qui? ok munizioni ecco il pane la lasciate non mi frega un cazzo per adesso e questo qui è il famoso ruscelletto di cui vi dicevo prima ok io mi disconnetterai anche qua in quest'angolino e niente signore ci vediamo nella prossima puntata dove forse se riusciamo a fare tutto quello che dobbiamo fare andiamo amichevolmente a fare le due missioni più queste cose qua insomma dobbiamo fare tante cose ok quindi vediamo se riesco a fare qualche miglioria al mio equipaggiamento tranne l'episodio e l'altro però per il momento signori un saluto a tutti alla prossima e buon campeggio visto che ho piattato di un camping ciao a tutti